C'è acqua l'anno, non è vero. Allora, fammi ragionare. No, non è una testa vera. No. Anche, ormai ci siamo nella strada. la vedi con l'aria bianca però siamo a metà del percorso però non è stata asfaltata sì sì prendiamo quella penso che sia stata asfaltata comunque taglia tutto il percorso prendiamo quella di bianca quando arriviamo adesso lascio questo così è finita l'acqua non è finita ancora no se è così va bene quindi ho i amici ho i amici ho i amici il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info ho sempre quei pedali, ho paura di toccare, mi manda fuori completamente di strada ah io ce ne ho troppo grandi, posso dire quello che voglio ma sono troppo grandi, si vede basterebbe tagliare quella seghe, la parte finale con la seghina di ferro, tagli la parte finale, questa e già basterebbe ah beh che adesso un paio di pedali non costano tanto comunque cerca sempre di tenere i piedi a pari capito? si, si, quello lì si, quello lì è già automatico eh è una boia ho preso in un senso ormai volo di sotto oh Ok.